A questa manifestazione, buongiorno a tutti, bentrovati, grazie al liceo Croce per l'ospitalità, troppo avremo qui la preside per il saluto a nome di tutta la scuola ed è molto bello che questo preside... Sono rimasto un po' sconvolto e scosso quando ho ricevuto la telefonata che mi diceva che avevo vinto perché non me l'aspettavo, è un riconoscimento molto importante e soprattutto considerando che Mario Francese è nato a Siracusa come me. Inoltre sono molto contento perché è stato un anno un po' particolare, ho avuto delle difficoltà nel lavoro, soprattutto essendo precario non è molto semplice, quindi mi dà la forza per continuare a fare questo misiere che comunque è molto molto complesso e molto difficile. Questo premio per me mi emoziona, il fatto che io ho conosciuto Mario Francese e che davo del dottore come si usava una volta, per cui mi ritengo soddisfatto di ricevere questo premio. La foto più affezionata è quella di... è la prima foto che è quella del gesto di alta fine, un gestaccio faccio in una partita Palermo-Napoli nel 69.